Come ho fatto a mancarlo? Mancato! Strano, vero? Tua madre è stata partorita dal buco del culo e ti è fatta insegnare quando sei nato tu Bene, signori, belle bentornate sul canale, io sono Pinole1 e questo è Battlefield 1 In teoria avrei dovuto registrare due video di... Call of Duty Modern Warfare Remastered Però ho pensato a un cambio di programma perché mi è venuto in mente un fatto che non avevo messo in considerazione Quindi cercherò di finire al più presto Battlefield 1 per lasciare spazio a un'altra serie Che è adesso non un'altra serie come Modern Warfare Remastered che ho lasciato a metà e quindi ho intenzione di finire Semplicemente ho intenzione di portarla avanti, una serie che alla fine, cioè tra... in questi ultimi mesi è stata dimenticata Siamo giunti da tutto il mondo Gli innocenti, gli arroganti, i coraggiosi Vedevamo nella guerra il nostro rito di passaggio Una grande avventura che avrebbe reso tutti noi uguali davanti alla gloria Ma la guerra è paura, non avventura E l'unica uguaglianza è dinanzi alla morte Ho alzato il volume in cuffia Questa è una campagna molto molto bella È stata... non so se è la mia preferita, di sicuro una di quelle che mi piacciono di più Scusate Bene Metà degli assalitori muore Cos'è? Dunkirk Dunkirk parte 0.1 Greta non sarebbe felice Greta Thunberg non sarebbe felice Fredrik Bischoff Oddio Ehi, siete voi, Fredrik Bischoff? No, no, mi spiace è morto Ma questa non è la vostra foto No Così sembra Jack Foster Sono il vostro nuovo nievo No, non credo Levami questo buccioso ritorno Certo che no Ho fatto tutta questa strada solo per vedere Fredrik Bischoff, l'orgoglio dell'Australia Ha persino mentito sulle data Potrebbe essere volato Conosci il masso? Sì Ok Ok Effettivamente Non capisco cos'è Oh cos'è Dirigiamo i colpi Oh che figata Oh che figata Ciao stronzi Sa che gli abbiamo rotto il culo in due Hai capito Rispondono Ehi ehi dove credi di andare Prepara il fucile Sì va bene starete Andrai al comando delle retroguardie Dopo che sparerò il bengala Sì signore Sì signore E non finire nei guai Non finire nei guai Come quando tua mamma ti diceva Sì vai fuori a giocare ma non sudare Aspettate che abbasso il volume in cuffia Sì lo so che prima l'ho alzato Però prima sembrava basso ma non lo era Ok un fucile a canna liscia E un fucile fatto bene Muovetevi E la madonna Operazione Overlord vibes Per ora non abbiamo incontrato stronzi Cosa ho appena detto? Ok No Terrei questo Sapete Caga Beccato Chi è il figlio di puttana? Chi è il figlio di... Eccolo là Mancato No l'ho preso ma di striscio Mancato Beccato Una fottuta granata No c'è lo stronzo sopra Oh c'è lo stronzo che è qui Oh c'è lo stronzo che è qui Ok Diavo vivi Allora Fammi ricaricare Che è sta roba? Che... Non capisco C'è Oddio Scusate che... Un attimo Problemi Con il cavo HDMI Non si vede un cazzo Tanto ricarico Ok A volte capita Il cavo HDMI Sfarfalla Non è niente Non è niente ragazzi Ci siamo interrotti un attimo Ma non è niente Oh figlio di puttana Figlio di puttana Figlio di puttana Ok Quale postazione? Un attimo che qua c'è roba Devo avere un 98 C'è chi Ma no Non Per ora Lo lascio qui Ricordandomi che è qui Se mi serve Levati di lì Che vorrei capire Comunque è furbo Fare le postazioni così No aspetta Forse si saliva di là E sono un coglione io Oh bello Si carica con la baionetta Ok Il fottuto cavo HDMI Da problemi Oh Un lancio a granate Ok E fin lì Ci siamo Ah Mancato Beccato Ciao stronzo Aia Come merda devo fare io? Ho sbagliato Come merda gli... Ok ho un'idea Sacco di merda Ma che cazzo è che esplode qui? Bravi bravi Ecco infatti sono morti Andate a fanculo Beccato Non che ci volesse molto ma Dai Dove cazzo è il figlio di puttana? Ma vai a cagare Non voglio sapere dov'è quel... Coglione sacco di merda Un altro Cazzo vi... Che cos'è? Vi riproducete là dentro Guarda Li si riproducono Ah Cosa c'è? Un'altra mitragliatrice Ma sono fottuto Che cazzo? Perché non ti sdrai Minchione Sì vabbè C'è un'altra mitragliatrice Si riproducono Aspettate Atto Di fede Stop Ora ce la possiamo fare Forse Ma hanno tipo un Gawar 98 Che questo fucile mi fa cagare Oh grazie Stop figlio di puttana Dobbiamo avanzare verso quel punto d'osservazione Ok Bene Ce la faremo con il punto d'osservazione Di qui non credo si passi Però possiamo andare qui Però possiamo anche farci fottere Da Benzebù Ma che cazzo Ti fermi? Aspettate Mi interessa Prendere la carabina C96 Soprattutto perché finiscono le munizioni Questo che è? Ok Proprio questa Sono curioso Non credo di averla mai usata Ma porca troia Non è da buttare Aia Granata Mia Ok Un fucile a pompa Ma no Tengo questa Bene Bene Benissimo Voglio vedere che potenza ha Colpo alla testa Mancato Manca vaffanculo Finiti Un fottuto parto sta roba Un fottuto parto Voi avrete visto tipo Manco dieci minuti di video forse Però io sono qua da 25 minuti buoni Tre Eh? M1903 Sperimentale Ah Sì sì È una figata sta roba È lo Springfield Semi automatico Il problema è che non ha munizioni Ce la facciamo? Minchia Non ho idea di quanto Del tempo Da quanto sto registrando Ma i vicini Hanno già sentito L'avemaria Al contrario Non ho mai avuto problemi A fare sta roba E questo è il bello È ora di sparare quel bengala Che benga Ah Sì giusto Che cazzo pensi di fare? Vieni con me Qui Guarda Avanti guarda Ragazzo Sei finito all'inferno Per davvero Io volevo Tu volevi solo una tua statua Nella piazza del tuo paese Volevo solo No Io volevo Dai su ragazzo Alzati Avanti bravo Io morirò Sì No Non morirei Sei australiano Impossibile da uccidere Sì Forse sì A meno che tu Non sia neozerandese No Allora Prima di cominciare Sì Avanti Alzati Guarda Il braccio L'altro fuori Il calcio nella spalla Guancia contro il calcio No Così Puntalo dove vuoi sparare Bene Piede un po' in fuori Bene Ci segue Cosa succede quindi Stavo cominciando a pensare Di aver perso i miei australiani Posso fare qualcosa? Non tu il ragazzo Ci serve un messaggero Per il fronte Davvero? Sì No Non può buttare il ragazzo Lai in mezzo Così si farà ammazzare No No Io posso farlo No Lo farò io Va bene Tu starai con me E tu Tu correrai Va bene Padrone Io Corri 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 Ah sì Me la ricordo Staparte Devo riuscire a superare Quegli ottomani Ottomani? Sono cazzo Dei cazzo Di mutanti Ottomani Beccato Beccato Oh merda Eh Quanti cazzo Di colpi Di cibo Eh No vabbè Voglio rivedere Quante volte Gli ho sparato E lui non ha mostrato Reazione Lo devo vedere Adesso Lo andrò a rivedere Quando Edito il video Dei fottuti mutanti Ottomani Bene Mi serve un fucile Che becchi Un attimino In modo più preciso Un bolt action Ecco È perfetto Devo arrivare Laggiù In effetti Me l'avevano detto Io correrò Come cazzo Fai a essere Ancora vivo Questo fucile One shot D'accordo Come fai A essere ancora vivo Dopo un colpo Amico mio Andiamo Mi sparano Ho sentito Un proiettile vicino Sì Qui si mette proprio Ciao figlio di puttana Ciao figlio di puttana Ce n'è uno là dietro Ma vaffanculo Ma che cazzo è Che spara qui Qui Che c'è Bene Ah questa c'è la baionetta È meglio Torniamo da Whitehall Quindi strada inversa Completamente Ciao figlio di puttana Oh Un'altra cazzo qui Come fai ad essere ancora vivo Amico mio Preso Preso Qui Li avevo già falciati Se ce n'è altri Amen Oh merda Fate con calma Mancato Mancato Anch'io sono demente Oh merda Ma sanno già Che sono qui Non ho visto Anch'io che Vabbè Mi brucio Le chiappe da solo Però Mancato Becca No Lo so che non puoi continuare Però Boh Mi andava Anche perché questi ammazzano te Mancato Andiamo via No no Dai buono Che se poi crepo bestemmio E sappiamo come va a finire Un attimo solo Scusami No Non viene giù il muro Vabbè Dove devo andare Che non me lo ricordo più Eh Oh merda Una granata Scusami Trova Whitehall Ah è qua Ma vaffanculo Bene Bene Non l'hai fatto Un bel colpo Beh veramente Io il pistolero Insomma Io Ci sono file in ritirata O Quello che temevo Bishop Avverti la retroguardia Che ci muoviamo Ok Ho rimasto sei colpi Andiamo Va bene In effetti questa campagna si chiamava il porta ordini per un motivo No dai Fermati Non voglio che carichi con la baia Ok Ah si è stancato poverino E' la Alla retroguardia Effettivamente Per chi non fosse stato informato da un messaggero La posizione alleata è persa L'artiglieria coprirà la ritirata fino alla spiaggia Colpendo il villaggio e i forti circostanti Questo vuol dire che avevano appena mandato No Sì C'è capito Avevano mandato una squadra con il ragazzo a prendere Al forte o al vilano Mi ricordo adesso stanno per sparargli addosso con dell'artiglieria Meglio che muoviamo il culo e li avvisiamo Ah Troppo tardi mi sa Che bello Equino sal Equino saltevole Corri Aiuto Grande Via dalle palle Equino Comandante Scusi Dov'è finita Difendiamo Difendiamo Benissimo Ok No Devo lasciarli avvicinare per usare Oddio Preso 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 Fammi mettere quell'ultimo colpo che ho di riserva Sacco di merda Preso E Ultimo Beccato Mi servirebbe un'arma loro ma Vabbè Prendi questo Resistiamo finché possiamo come possiamo Bene Oh verda Mi hai fatto cagare No sono un coglione Ok Oh cazzo Non lui Non lui Please Tutti ma non lui E io me lo ricordo Quel sacco di merda Voi ve lo ricordate? Erano due L'ultima volta Voi non crepa eh Ma gli faccio qualcosa Anche solo lontanamente Oh una carabina C96 Bene Altri? Ah no Non è vero Ancora vivo Ancora vivo Ancora vivo Bene Andatevene al diavolo Ok Va bene Abbiamo resistito Ritirata totale Umbarderanno il villaggio e il forte per coprirci Andiamo Grandioso Ho mandato degli uomini a presidiare il forte Perfetto Sono già morti Chi erano? Sono dei volontari Che vuol dire tutti ovviamente Dannati ragazzini Alla sua età è normale Non c'è da stupirsi Foster Merda Foster è il ragazzino Devo salvarlo Andate Farò finta di non essermene accorto E a far vostro Si che lo è Un altro cadavere sulla coscienza Tua madre Forza su Non avete molto tempo Ok Io direi che Spezzo il gameplay Lo so che è durato poco Però Ho già un'organizzazione mia Quindi Lasciate stare Non che sia un problema Il fatto che non è durato molto Credo che sia di 20-25 minuti Adesso io con i tempi Se non cronometro Sono una frana Va bene Ci vediamo al prossimo video Alla prossimo video Alla prossimo video Alla prossimo video